Tutti in fila oggi per tentare la fortuna, perché la Dea Bendata stasera sta per regalare ben 94 milioni e 800 mila euro, ad oggi il più alto jackpot al mondo, una somma da capogiro che può davvero stravolgere la vita di qualunque persona. Il problema, se così si può definire tale, è che con una cifra simile nessuno riesce a capire cosa farci, anzi c'è chi addirittura continuerebbe a lavorare per poter andare in pensione. Ci farebbe lei con tutta quella cifra? Beh, io lo stavo dicendo oggi ai miei colleghi, continuerei a lavorare perché altrimenti perderai la pensione. Però con 94 milioni mi sa che la pensione non serve più. Potrebbe essere anche un alibi per dire che non ho vinto niente. E mentre i cervelloni della Sisal sono la ricerca del fortunato vincitore, vediamo quali sono i maggiori desideri dei giocatori. Innanzitutto casa, prima cosa casa, poi quello che viene, viene, l'importante è prendere 94, anche 6, 5, 5 più 1, 4, va bene comunque. Qualcosa anche per la famiglia? Per la prima la famiglia, poi si cerca di aiutare quelli che c'è vicino intorno e poi sicuramente con 94 si può fare un po' di beneficenza grande. Speriamo di vincerli. Una cosa è una bella casa, una bella casa, poi aiutare a chi ha bisogno. Realizzerei oltre tutti i desideri. Quali per esempio? Cosa comprerete? Case. Tante case. Per far sta bene tutti quelli dietro di me. Sembra proprio che l'emergenza casa sia il bisogno primario di tutti, anche se a rifletterci bene, con un jackpot del genere, che corrisponde circa a 180 miliardi di vecchie lire, si può acquistare una città intera, altro che palazzi. E poi c'è chi pensa anche a migliorare la vita degli altri, magari dotando il proprio paese di una fonte di energia. Ci farei una centrale solare e eolica, per il bene della collettività. Per te stesso? Il resto, per lo che avanza. Non è poco? Beh, speriamo. La febbre è salita molto, i giocatori giocano abbastanza in questo periodo, perché sentono che l'uscita delle 6 è quasi imminente, perché se no ci roviniamo tutti. La febbre da super in allotto ha coinvolto davvero tutti, anche più scettici, provocando quasi dei veri e propri blackout nelle ricevitorie, come in questi scaffali, dove a causa della carenza di schedine vuote, occorre chiedere direttamente alla cassa per riuscire ad effettuare una giocata. Ed allora anche le nostre telecamere si sono lasciate tentare ed hanno provato a giocare una schedina, sperando stasera di essere baciati dalla sorte.